Oh giovani amici di Facebook, siamo qui nella redazione di LegaNerd, è arrivato il momento di fare le classifiche di fine anno Finalmente possiamo guardare insieme dopo che per tutto l'anno vi siete sorbiti i miei video guardando solamente le mie braccia Voglio ora mostrarvi la top 5 degli incaut acquisti del 2015 Il primo oggetto che voglio mostrarvi è un powerbank, ormai di powerbank sul mercato ce ne sono veramente un'infinità Quello che però mi è piaciuto di più tra i tanti che vi ho mostrato durante l'anno è questo EMIEMEMO Arriva in due diverse misure da 10.000 e da 8.000 mAh Mi piace moltissimo l'estetica, è disponibile in tante diverse fantasie Ha una uscita USB classica a cui è possibile collegare un qualunque cavo USB e ricaricare diversi device E ha qui un LED che si attiva quando si agita l'oggetto Vediamo se ce la faccio esatto Che vi mostra la carica della batteria È molto bello, costa 20€ Al quarto posto di questa classifica ritroviamo una vecchia gloria Che però anche quest'anno si è fatta assolutamente rispettare Sto parlando della mitica SJ400 Questa action cam low cost cinese Che fa del suo prezzo e della sua dotazione di accessori i punti di forza Si trova tra i 60 e gli 80€ Dipende un po' da come è marchiata e dai diversi negozi È un costo veramente irrisorio A volte arriva anche con una seconda batteria Oltre che con tutta una serie di accessori veramente super comodi Se vi serve un action cam assolutamente consigliata Saliamo al terzo posto Con questo oggetto ormai mitico Uscito quest'anno nella sua nuova versione Che vedete qui in video Sto parlando del Chromecast Questa appunto è la nuova versione Un po' più fighetta Ha questo magnete che è molto comodo Per diciamo riporla in sicurezza Senza che il cavo HDMI rompa troppo le balle Rispetto alla vecchia versione Non ha niente di particolarmente nuovo Ma rimane comunque un accessorio assolutamente indispensabile Se non avete una Smart TV O se utilizzate spesso servizi che supportano appunto il Chromecast Costa 40€ ed è un acquisto assolutamente consigliato Arriviamo al secondo posto con un tablet Eccezionalmente c'è anche un tablet in classifica Perché è un incauto acquisto? Perché costa veramente pochissimo Sto parlando dell'Amazon Fire Questo tablet in questo caso con pubblicità La vedete nel lock screen del tablet È un tablet che costa solamente 60€ Offre prestazioni più che dignitose Ha una versione installata di Android Un fork creato da Amazon appositamente Con uno store proprietario In cui comunque troverete più o meno Tutte le app principali disponibili su Android Per l'uso quotidiano normale di browsing e di consumo media E soprattutto se avete un account Amazon E lo utilizzate molto spesso È assolutamente un tablet consigliato Soprattutto perché ripeto costa solamente 60€ E infine al primo posto Forse inaspettatamente per voi Arriva un accessorio che ho presentato da poco Costa tra i 17 e i 20€ Sto parlando dell'Omega Key È questo accessore particolare che trasforma Le vostre chiavi in una specie di coltellino svizzero Se volete È fondamentalmente possibile appunto Con questi due spessori e queste viti Collegare tra loro le chiavi E quindi riuscirle a riporle poi all'interno dell'oggetto Arriva anche con questo comodo strap in tessuto Il moschettone in metallo I due strati qui al contrario di altri oggetti simili Sono in metallo ricoperti in teflon Per cui non rischiano di raffiare gli altri vostri oggetti Che avete in tasca È veramente super comodo Non me l'aspettavo Ma è una delle cose che utilizzo di più Tra le tante che vi ho mostrato durante l'anno Super consigliata L'Omega Key vince la classifica annuale degli Incauti Acquisti E la trovate insieme a tutti gli altri oggetti Nei link qui sotto Ci rivediamo allora al prossimo video di Incaut Unboxing Se vi è piaciuto questo video come gli altri Fate like, fate share, mi raccomando E se volete comprare qualcosa degli oggetti che vi ho mostrato Usate i link che sono qui sotto o ai lati Ciao ragazzi, al prossimo video Il tavolo che è dietro di voi in questo momento Ma che cazzo Per tutto l'anno avete visto solamente le mie braccia Ma è arrivato adesso il momento di smettere di dire arrivato Si, prova, si, si Vi siete cuccati solamente le mie braccia E ve le state per ricuccare adesso Sto cazzo Prova, si, si Quindi siamo arrivati alla mitica No Grazie a tutti Grazie a tutti